Per consultare con successo il vocabolario è indispensabile conoscere la declinazione del pronome aggettivo indefinito aliquis, qualcuno, aliquid, qualcosa, poiché il vocabolario usa tale pronome per indicare la costruzione di molti verbi o aggettivi. Ecco la declinazione completa del singolare. Osserva che per i casi indiretti del neutro si usa il sostantivo della quinta declinazione res, accompagnato da aliquis in funzione di aggettivo. Facciamo un esempio. Se cerchi il verbo peto sul vocabolario, dopo il paradigma, troverai una decina di accezioni, delle quali adesso prenderemo in esame le più frequenti con le rispettive reggenze o costruzioni, ovvero i casi evoluti dal verbo in rapporto ai diversi significati di volta in volta assunti. Petere può essere utilizzato nel senso di dirigersi e andare verso, per lo più con termini di ambito geografico. Aliquem o aliquid petere significa andare verso qualcuno o qualcosa. L'esempio indica che la persona o la cosa verso cui ci si dirige deve essere espressa in accusativo. Aliquem al maschile femminile, aliquid al neutro. Petere può essere usato anche nel senso di chiedere, domandare. Aliquid abalico petere significa domandare qualcosa a qualcuno. L'esempio indica che la cosa richiesta viene espressa in accusativo, aliquid, mentre la persona a cui è rivolta la richiesta va in ablativo, preceduto da a o ab. Ab aliquo. Può essere ancora utilizzato nel senso di chiedere, domandare, ma nella frase aliquid aliqui petere significa chiedere qualcosa per qualcuno, cioè a vantaggio di qualcuno. L'esempio indica che quando la persona è espressa in dativo, aliquid, presenta la funzione logica di vantaggio. Può essere usato nel senso di assalire, aggredire, attaccare. Aliquem petere significa aggredire qualcuno. L'esempio indica che la persona che si assale o si aggredisce va in accusativo. Aliquem. Infine può essere usato nel senso di aspirare a una carica politica. Aliquid petere significa in tal caso presentarsi candidato a una carica, cioè candidarsi. L'esempio indica che la carica politica alla quale ci si candida va in accusativo. Aliquid. La lezione ti è stata utile? Clicca su mi piace. Non perderti poi tutti gli altri contenuti. Iscriviti al mio canale YouTube. A presto! Clicca su mi piace.